a tutti ragazzi a tutti ragazzi qui sempre le amiche e oggi siamo qui con questo nuovo video su FIFA 16 ovviamente su ultime team per fare la nostra divisione attenzione ragazzi per motivi me e Michi non potrà venire perché è malato quindi questo video diciamo che gli ho dedichiamo un po' a lui e speriamo che guarisce presto mentre insieme a me quest'oggi c'è il mio cuginetto Peccano Paoletto che ci aiuterà a completare questo divisione perché lui se la capi è già su FIFA andate a vedere il video che ho caricato qualche 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 oretta fa di Clash of Clans lasciate un like commentate e supportateci per quella nuova serie arriviamo almeno a 10 mi piace quindi ragazzi siamo pronti qui per iniziare qualche tra qualche prossimo video credo che sarà su un draft credo che sarà sul draft quindi ragazzi spero che vi potrete divertire molto allora come potete vedere mi sono fatto una squadra la Juve in particolare perché essendo la mia squadra preferita me la sono andata appunto a creare e quindi ragazzi andiamoci a giocare questa questa partita poi scriveteci nei commenti anche se volete che ne so se volete challenge draft foot draft challenge e altro adesso voglio mettere dei contrasti ci vediamo subito in campo abbiamo trovato la nostra il nostro avversario vediamo che squadra oh mio dio ragazzi non è nemmeno il draft mi ha messo in confronto sta bestia a tre tutti ragazzi tre tutti cazzo di squadra che si vanno a fare come come cazzo fanno come fanno ad avere tre tutti ma c'è ragazzi lo schifo sicuramente anche forse giocare quindi ci prenderemo così proprio al random e vaffanculo vai zaza primo gol possiamo ripartire attenzione c'è quadrato sulla fascia mi fa il bordello contro marcelo tutti se lo salta di netto attenzione ancora quadrato l'ha visto maschella quadrato attenzione possiamo ripartire ancora hernanes al tiro pagati che cazzo attenzione ancora hernanes angolo 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 nostro buono attenzione mettiamo in mezzo buona ancora corner ragazzi hernanes la mette in mezzo buonissima per quadrato oh no c'è ragazzi non c'è due giocatori ok preferisco così che prendere il fallo rosso attenzione possiamo ripartire no sì forse sì dai ragazzi dai ragazzi vai morata morata bandare bandare morata la best zaza vaffanculo sfondali questa cazzo di porta comunque ragazzi ce la stiamo giocando veramente bene andiamo ancora vai quadrato vai mettila perché ne hai visto non lui non lui si ripartire attenzione peccato attenzione mi ha sbagliato il passaggio parla ancora per hernanes hernanes niente attenzione non c'è lexandro posso schigare mi sa che si infortuni di hernanes ma non c'è n'è forte una minchia vaffanculo andiamo a bastere questo corner con hernanes infortunato che ci fa la minchia vai ecco la ripartenza mamma caseres attenzione ancora zaza c'è ragazzi praticamente stiamo staccando solo noi spero che sia così per tutta la partita perché altrimenti con la squadra che è stato 10 veramente ci aprirebbe proprio la mano che dirò possiamo ripartire attenzione ancora zaza poto passare possiamo ripartire attenzione con il bronzone con il bronzone che la scala ha provato a scaricarla attenzione che dirà morata può provare attenzione ancora calcio ad angolo hernanes intanto si è ripreso incrocio incrocio possiamo ripartire attenzione questa volta faccio errore zaza 2-0 2-0 ragazzi e dai questi due gol li dedico esclusivamente al mio compagno youtuber piki c'è ragazzi questo mi ha fatto riflettere il mio amico paolo c'è questo secondo me si è scioppato il giocatore c'è ragazzi che vi dico io ci vado proprio trovare con zaza di potenza minchia mamma che sbordata che gli ho tirato c'è attenzione ragazzi sto giocando con un uomo in meno e dai è 3-0 così ragazzi sono stato un attimo zitto perché mi volevo un po' concentrare cioè ragazzi vi volevo dire come è veramente cioè è vero il fatto che si dice che con un giocatore in meno si gioca anche meglio quindi ragazzi mi sto trovando veramente bene è questo come avete visto ha una squadra di toti cioè una squadra con tre toti ma ma ragazzi questo questo qui ho giocatore contro mamma il gol schillato stavo facendo ragazzi mamma mia alla vita ragazzi veramente forse arriva il gol adesso ma cazzo no non arriva nemmeno adesso ragazzi ha tre toti nemmeno in prestito quindi vuol dire uno o è scioppone o è mostro che va c'è più probabile scioppone perché di essere mostro non mi sembra o è qualche coglione che che ne so sta giocando al posto di qualcun altro attenzione forse arriva anche il quarto ma c'è massilo a tutti che finalmente fanno chiusura ma attenzione niente no ragazzi non ci credo c'è il quit c'è il quit ci credo 3-0 ragazzi aveva veramente una squadra della madonna c'è se ce la voi però come dicono parecchi è vero che se qualcuno ha una squadra forte fifa ti penalizza c'è ragazzi è veramente strano questa cosa se qualcuno ha una squadra forte fifa ti penalizza ragazzi purtroppo non riesco a fare questa una seconda partita comunque scrivetemi qui sotto nei commenti se avete una seconda partita eventualmente allungherò un po' di più il video intorno ai 15 minuti e vi farò vedere due partite ragazzi questo video è finito spero che vi sia piaciuto lasciate tanti bei like e scriveteci qui sotto nei commenti che tipo di challenge vorreste vedere prossimamente avrete anche la rischia il gusto challenge quindi ragazzi ci sarà veramente da divertirsi e ci sarà anche lo spiaggiare 30 iscritti che purtroppo non ho potuto fare allora ragazzi qui è tutto vi ricordo che il prossimo video sarà molto probabilmente un draft perché anzi forse un altro di ultimi temi ma poi un draft perché in questo weekend andrò a comprare appunto i fifa points e potremo fare molti draft ovviamente li farò in più video quindi ragazzi spero